Alessandro è stato un grande faro e speriamo potrà esserlo ancora, per noi è un faro irrinunciabile per la sua onestà intellettuale. Lui come noi, lui come noi, per non cedere al ricatto, per non cedere ai poteri forti, per non fare il vigliacco sostanzialmente, ok? Ha rimesso tantissimo, sia dal punto di vista della salute, perché poi certe cose ti fanno arrabbiare, sia dal punto di vista economico, perché si bloccano completamente tutte. All'epoca, chi non aderiva al pensiero unico, parolaccia, lo so che il pensiero unico è una parolaccia, noi ci stiamo dando una polisi, evitare di dire questa parola è giusto, io sono d'accordo, perché basta con queste parole preconfezionate, però in questo caso ci sta, cioè chi non aderiva al pensiero unico veniva sostanzialmente depotenziato all'epoca, ve lo ricordate tutti, quindi gli veniva tolto tutto, la dignità e il lavoro. Alessandro non ha potuto lavorare per anni, fin quando non è stato risolto questa cosa. Sapete cosa vuol dire per un uomo? Soprattutto uno come lui che non è che si dice, sai, c'avevo le pensioni d'oro, le cose eccetera, mettersi, cioè, non poter lavorare, non poter guadagnare. Quindi è stata una remissione economica, personale. Una persona nella sua situazione avrebbe potuto fare qualsiasi altra cosa, no? Adeguarsi al sistema e anzi suonare la stessa musica e quindi, capirai, con il carisma di Alessandro poteva arricchirsi, no? Come hanno fatto in tanti, ok? E invece è stato dalla parte della gente. Questo è un coraggio e una dignità che noi gli dobbiamo riconoscere. Vogliamo sapere come sta, dov'è come sta, perché è un diritto delle persone che lo amano tantissime, è un personaggio pubblico, non vogliamo entrare nella sua privacy, ovviamente, ma almeno sapere una informazione di base, quelle che naturalmente la pubblica opinione dovrebbe sapere. Devo dire un po' di tutti, perché non è che le persone possono scomparire dall'oggi al domani. Se ti scompare un vicino di casa a un certo punto tu ti preoccupi e dici, ma non è che facciamo i desaparecidos? No, non è possibile. Dobbiamo sapere. Dici, vabbè, se n'è andato a vivere, che ne so, in Canada. Vabbè, nella casetta in Canada. Perfetto. Basta sapere. Ma no che non si sa più nulla. Riflettevo sul fatto che l'amicizia con Alessandro, che per me è nata qua, perché non ci conoscevamo prima, e ascoltare lui, che introduceva sempre con questo aspetto filosofico, storico, scientifico, anche dal punto di vista della psicologia, della psichiatria, cioè quindi un uomo e anche uno scienziato, diciamo, che ha quella che io ho sempre avuto come oggetto di speculazione, la visione olistica, cioè vedere le cose con uno sguardo molto ampio. E poi gli sono estremamente grato per questa sua intuizione. Quando lui parlava dell'homo sapiens, poi del sapiens sapiens, si diceva che noi eravamo i sapiens sapiens sapiens, perché eravamo quelli che esploravano il senso critico. E poi l'intuizione della compagnia dell'anello, perché lui lo lanciò così parlando della sua passione per Tolkien, che era la stessa mia, la stessa nostra. E poi gli telefonai e dico, ma senti, ma se facessimo la nuova compagnia dell'anello, ah, che bella idea, eccetera, eccetera. A questo punto voglio dire, ritestimoniando per l'ennesima volta quanto è diffusa Radio Radio, che nei miei convegni, che sia Trieste, che sia Padova, che sia Bologna, ma anche al sud, incontro continuamente persone che mi seguono e ci seguono su Radio Radio, e molti che dicono, ma anch'io faccio parte della compagnia dell'anello. Allora, riflettendo sul fatto che questa compagnia è un aspetto fondamentale, perché molti dicevano, ma voi ci consolate. Allora, ritornando a Alessandro, il fatto che lui, che aveva un ruolo così importante in questa compagnia dell'anello, che è qui a Radio Radio, non si sappia più niente. A questo punto io, purtroppo, come voi sapete, sono uno che non ha peli sulla lingua. E quindi sono molto stupito dal fatto che questo filtro sia posto in essere dalla figlia, che mi sembra essere il principale muro, voglio dire, che c'è fra noi e lui. Ma sapendo che il padre era così appassionato a questa cosa, com'è che non ci dice mezza parola? Allora, in giro, devo dire, perché poi tutte le volte che un tassista, soprattutto i tassisti ci ascoltano, e io viaggio molto in taxi, ovviamente, quando devo fare percorsi complicati, e mi dicono, ma com'è, mi dica notizia di Alessandro, eccetera, eccetera, ma è mai possibile? E devo dire che è lì che si sentono le illazioni più incredibili, ma francamente che ti fanno pensare, perché dicono, beh, ma allora se la famiglia li vuole così bene, perché non ci fa sapere? Ma allora ci può essere, allora nascono le illazioni più oscure, dice che ci sia un ricatto, che ci sia un'imposizione, perché lui era un uomo che era stato anche parlamentare, se me ricordo, e quindi conosceva bene tutto il meccanismo e diceva cose molto più dirette di quelle che dico io sul Presidente della Repubblica, su Crosette, che lui chiamava Crosette, essendo entrambi torinesi, eccetera, eccetera. Non so, e quindi dalla base si sentono queste illazioni che dicono non c'è altra spiegazione di chi gli erge questo muro intorno che ci sia qualcos'altro, perché una normale persona affezionata, sapendo quanto lui tenesse a questo spazio di Radio Radio e alla Compagnia dell'Anello, impedirli un collegamento e farli allivare, per esempio, come si fa abitualmente in questi casi, una cassetta con le voci delle persone più care, perché questo serve a stimolare i neuroni di una persona eventualmente in coma, non è semplicemente così un gesto di affetto, ha un significato tecnico. E allora, ripeto, io volevo testimoniare questo aspetto, oltre alla mancanza che tutti diciamo di lui e della sua personalità, però questo aspetto veramente oscuro che è francamente inspiegabile.